Questo festival è un festival veramente importante per la città di Cesenatico perché riesce a coniugare la cultura al divertimento, al piacere di passare una bella serata insieme a tanta altra gente e siamo contenti di essere riusciti a farlo anche quest'anno perché le difficoltà ci sono state ma siamo riusciti lo stesso a organizzarlo e di sicuro siamo convinti che possa diventare un appuntamento fisso per questa città perché è sempre molto richiesto ed è sempre molto piacevole riuscire a vedere tanta gente che è interessata a partecipare.